Vuoi mangiare il sushi più buono di Genova? Sì sì hai capito bene E non lo dico io ma la lista cambia rosso Inserendolo nei 250 sushi più buoni d'Italia Qui fanno una cucina giapponese in chiave fusion Come questi Pansokyoza, Uramaki al capo magro E addirittura Cobbetonato e Futomaki alla caponata siciliana Siamo da Broadside Sushi Ah già lo dimenticavo, ogni dolce è una vera e propria scoperta Per i più nostalgici c'è uno ispirato a Pacman I dolci più interattivi di sempre Avete mai visto qualcosa del genere? Scrivetemi nei commenti, ciao!